non dobbiamo fermarci a cercare se vi siano giunti attraverso il metodo di aristotele o quello di pratone ma il fatto è che gli antichi andrologi avevano pienamente capito le due nature interna ed esterna dell'uomo. Nonostante le superficiali ipotesi dei geologi cominciamo ad avere prove quasi giornaliere a sostegno delle affermazioni di questi filosofi. Essi dividevano in cicli gli interminabili periodi dell'esistenza umana su questo pianeta e durante ognuno di questi cicli il genere umano raggiungeva gradualmente il punto culminante della più alta civiltà e ricadeva gradualmente nella più abbietta barbarie. A quale eminenza la razza sia più volte arrivata nel suo progresso può essere solo vagamente supposto dai meravigliosi monumenti dell'antichità ancora visibili e dalle descrizioni date da Erodoto di altre meraviglie di cui oggi non rimane traccia. Già ai suoi tempi le gigantesche strutture di molte piramidi e di templi famosi erano solo una massa di rovine. Disperse dalla instancabile a mano del tempo esse sono descritte dal padre della storia come venerabili testimoni della gloria da lungo tempo passata dei nostri antenati. Egli rifugge dal parlare di cose divine e lascia alla posterità solo l'imperfetta descrizione per sentito dire di alcune meravigliose camere sotterranee del labirinto dove giacevano e giacciono ancora sacri resti dei reiniziati. Inoltre noi possiamo farci un'idea dell'alto grado di civiltà raggiunto in alcuni periodi dell'antichità dalle descrizioni storiche dell'età dei Tolomei e tuttavia in quell'epoca le arti e le scienze erano considerate in via di decadenza e gran parte dei loro segreti era andata perduta. Nei recenti scavi di Mariat Bay ai piedi delle piramidi sono stati esumati statue di legno ed altri relitti i quali dimostrano che molto prima delle prime dinastie gli egiziani erano giunti ad una raffinatezza e ad una perfezione che eccita la meraviglia anche nei più ardenti ammiratori dell'arte greca. Bayard Taylor descrive queste statue in una delle sue conferenze e ci dice che la bellezza delle teste ornate di occhi di pietre preziose e con le palpebre di bronzo è rimasta insuperata. Molto al di sotto dello strato di sabbia in cui giacevano i resti raccolti nelle collezioni di Lepsius ad Abbott e del British Museum furono trovate sepolte le prove tangibili della dottrina ermetica dei cicli che abbiamo già spiegato. Il dottor Silman entusiasta ellenista ha recentemente trovato nei suoi scavi nella troade abbondanti prove dello stesso passaggio graduale dalla barbarie alla civiltà e dalla civiltà alla barbarie. Dunque perché dovremmo essere così riluttanti ad ammettere la possibilità che se gli antidilluviani erano tanto più versati di noi in certe scienze e perfettamente padroni di arti importanti che adesso consideriamo perdute essi possano ugualmente avere eccelso nella conoscenza psicologica? Questa ipotesi deve essere considerata ragionevole come un'altra fino a che non si presenterà una prova contraria che la distrugga. Ogni vero sapiente ammette che per molti rispetti la conoscenza umana è ancora nell'infanzia. Può forse darsi che il nostro ciclo sia cominciato in epoche relativamente recenti? Questi cicli, secondo la filosofia caldea, non abbracciano tutto il genere umano nello stesso tempo. Il professor Draper conferma parzialmente questa opinione dicendo che i periodi in cui la geologia ha trovato conveniente dirigere il progresso dell'uomo nella civiltà non sono nettamente distinti e non valgono contemporaneamente per tutta la razza umana e dà come esempio gli indiani migranti dell'America che solo adesso emergono dall'età della pietra. Così più di un uomo di scienza ha confermato senza volerlo la testimonianza degli antichi. Ogni cabalista bene al corrente del sistema dei numeri di Pitagora e della sua geometria può dimostrare che le teorie metafisiche di Platone erano fondate sui più rigorosi principi matematici. La vera matematica, dice il magicon, è qualche cosa con cui sono connesse tutte le più alte scienze. La matematica comune è solo una fantasmagoria ingannevole, la cui troppo celebrata infallibilità sorge solo da questo, ossia che i suoi fondamenti sono fatti di materiali, di condizioni e di rapporti. Gli scienziati che credono di aver adottato il metodo aristotelico solo perché avanzano a fatica quando non corrono dai particolari dimostrati agli universali. Glorificano questi metodi di filosofia induttiva e rifiutano quello di Platone che considerano non sostanziale. Il professor Draper si lamenta che mistici speculativi come Ammonio Sacca e Plotino abbiano preso il posto dei severi geometri dell'antico museo. Dimentica che la geometria, l'unica fra le scienze che proceda dagli universali ai particolari, era precisamente il metodo impiegato da Platone nella sua filosofia. Finché la scienza esatta limiterà le sue osservazioni alle condizioni fisiche e procederà come Aristotele, non potrà certo fallire. Ma sebbene il mondo della materia sia per noi senza limiti, tuttavia esso è finito. E così il materialismo girerà per sempre in questo circolo vizioso, incapace di salire più in alto di quanto glielo permetta la circonferenza. La teoria cosmologica dei numeri che Pitagora prese dagli ierofanti egiziani è la sola capace di conciliare le due unità, materia e spirito, e permettere all'una di dimostrare matematicamente l'altra.